Gli incidenti mortali in Puglia sono in diminuzione ma serve ancora più sicurezza sulle strade. In sintesi il messaggio lanciato dall'assessore regionale della mobilità, Guglielmo Minervini, alla presentazione del quarto rapporto sulla sicurezza stradale in Puglia. Diciamo subito che la Puglia, con il suo 36,8% di incidenti mortali in meno rispetto al 2001, si colloca prima tra le regioni del Mezzogiorno, davanti a regioni del nord come la Valle d'Aosta e sostanzialmente alla pari con il Lazio. Un altro dato importante riguarda Bari, che si colloca come seconda città capoluogo italiana con meno incidenti mortali. Tra le province è bene anche quelle di Taranto, di Barletta, Andrea e Trani e di Lecce, male invece Brindisi con un più 6,3%. I mesi più funesti nell'ultimo decennio risultano quelli di luglio e agosto, mentre i giorni della settimana più ad alto rischio sono il venerdì e la domenica. Quest'ultimo giorno, soprattutto tra le ore 14 e le 16, ha registrato il più alto numero di decessi. Anche se l'Italia non è riuscita a rispettare l'impegno della riduzione del 50% degli incidenti mortali, la tendenza, anche quella pugliese, è molto confortante. Ma per l'Arem, l'Agenzia regionale per la mobilità, questo non basta e molto dipende dalla cultura degli automobilisti. Nei mesi di luglio e di agosto si verificano più incidenti che il venerdì sera si verifica la più alta concentrazione di incidenti mortali. Quindi significa che c'è un problema strutturale che riguarda le strade, però c'è un problema culturale che riguarda gli autisti.